Lei ha detto adesso la dualità non esiste, però è la coscienza che crea la dualità, quindi in realtà esiste. Esiste ed è finta contemporaneamente, esiste solo e solamente perché tu credi che esista e nell'istante in cui tu credi che esista una dualità fatta di buoni e di cattivi, quindi quello che crei ti viene addosso con la manifestazione di buoni e di cattivi, che tu giudicherai buoni e cattivi. Nell'istante in cui tu cominci a comprendere che la dualità era finta e ti serviva solo per fare un'esperienza della dualità, il mondo ti appare non più duale, non ci sono più i buoni e i cattivi, ci sono le persone più o meno coscienti di sé, ma la dualità scompare e a quel punto la consapevolezza che tu hai acquisito, consapevolezza che ti dice la dualità l'hai creata fino a che ti serviva per poter capire sostanzialmente che l'esperienza che stavi facendo della dualità era solo per capire che alla fine la dualità non c'è perché esiste solo una coscienza unica integrata, in quell'istante la dualità scompare e torna a esserci la coscienza unica integrata. La coscienza unica integrata, in termini quantistici, di descrizione dell'universo non locale, così come direbbe Bohm, come direbbe Alain Aspect, l'ultimo premio Nobel per la fisica di qualche giorno fa, che dice che l'universo è non locale, quindi non c'è né lo spazio, né il tempo, né l'energia, ecco in questo contesto la coscienza non si è mai divisa, la coscienza è sempre stata unica, nell'unico istante in cui esiste tutto l'universo, che a noi ci appare invece crononi e crononi, la coscienza non si è mai divisa, ma in questa pseudo finzione appare a te, persona poco consapevole, che stai per fare la consapevolezza della divisione, appare a te, fintamente divisa, e tu vedi tutto diviso, ma lo vedi e lo percepisci solo perché è la tua percezione che ti fa vedere le cose come tu credi che esse debbano essere. Nell'istante in cui questa percezione diventa la percezione della coscienza unificata, ancora una volta, non vedi più la divisione e scopri alla fine che la divisione non c'è mai stata, perché nell'unico istante in cui esiste tutto l'universo, si scopre che la coscienza non si è mai divisa, ti è apparsa a te divisa, ti è apparsa a te divisa per fare l'esperienza della divisione. Noi ci siamo incontrati per la prima volta a fine settembre del 2019, quindi prima che succedessero tutta una serie di cose che conosciamo bene. L'intervista io l'ho pubblicata a marzo del 2020, i primi giorni di marzo, era il 2 o il 3, quindi sono passati quasi 3 anni dalla pubblicazione e più di 3 anni dal nostro primo incontro. Sai che ci sono molte persone che mi dicono, io seguivo Malanga da tanto tempo, però ho cominciato a fidarmi di Malanga dopo la tua intervista, non tanto perché danno affidamento a me, ma credo perché sia uscito un qualcosa di particolare in quell'intervista, diciamo un'immagine più reale probabilmente anche di lei, di un professor Malanga che era sempre stato visto fino a quel momento su un palco a fare delle presentazioni. Che cos'è per lei la fiducia? La fiducia è quella sensazione reale o immaginaria che ti permette di riscontrare nell'altro quella parte di te che non conoscevi e che l'altro come oggetto transizionale ti sta buttando addosso. Quindi la gente ha sempre creduto inconsapevolmente dentro di sé che Dio non esisteva, ha sempre creduto dentro di sé in fondo, in fondo, in fondo che noi eravamo i creatori dell'universo e quando glielo vai a dire da un certo punto di vista e di realtà razionale è una cosa talmente incredibile che non ci si dovrebbe credere, ma si scopre che tra la credibilità e la realtà delle cose non c'è nessun liaison e dentro queste persone scatta una molla. Quelle cose che dice Malanga io le ho sempre sapute dentro di me. È certo, perché noi siamo i creatori dell'universo, ci siamo dimenticati di esserlo, ma quando arriva Malanga e te lo ricorda qualcosa dentro scatta e parte questo aspetto di fiducia. Dov'è che questo aspetto di fiducia fa fatica a venire fuori? Quando tu stesso resisterai all'idea che Malanga aveva ragione. Come? Esiste Dio. Tu lo sai che è vero, ma non lo vuoi accettare, perché l'esistenza di Dio ti calma i nervi. Tutto ciò che noi vediamo dipende da Dio, dipende dagli angeli e dai demoni. A loro si demanda tutta la responsabilità della creazione. Invece, quando Dio non esiste ed esisti solo te, che sei il Dio di te stesso, allora devi accettare che tutto quello che succede, ti succede e succederà nella vita, dipende solo ed esclusivamente da te. Una responsabilità che i cattolici sostanzialmente non hanno mai voluto prendersi su di sé. E invece il suo rapporto con la fede? Cioè fiducia e fede sono due cose che sono molto vicine, però sono completamente differenti. Sì, per me la fede, per quanto mi riguarda, non ha necessità di esistere. La fede non serve. Io vengo dal mondo della scienza senza H e in quel mondo le cose vanno sperimentate, vanno capite, vanno guardate, vanno studiate. E poi c'è una parte dentro di me che mi dice sì, secondo me è vero, secondo me non è vero. Ci sono quindi due parti, la parte destra e la parte sinistra. La parte sinistra è la razionalità, il due più due che fa quattro. E la parte destra è la parte sciamanica che ognuno di noi ha dentro di sé e che ti dice delle cose perché le sente in un modo completamente diverso, non con la razionalità ma con il sentire, con il percepire. Una cosa che l'essere umano di oggi ha perso, ma che invece secondo me va recuperata. Noi non possiamo essere sciamani perché lo sciamano non va da nessuna parte. Non possiamo essere scienziati perché l'abbiamo visto anche con gli ultimi due anni di scienza con l'H. La scienza con l'H non va da nessuna parte. La scienza con l'H era una religione e la religione non va da nessuna parte. E ritorna alla fede. E la religione ha questo controllo fondamentale sulla fede. E si vede una cosa fondamentale, che oggi noi trattiamo la scienza come una fede. Esiste la forza di gravità, esiste la formula della forza di gravità di Newton, quindi siccome esiste la forza che c'è come formula, allora le mele possono cascare per terra. E' come dire, c'è il dipinto di Dio e allora esiste Dio. C'è la croce e quindi esiste Cristo. E la fede vuol dire affidarsi a. Io mi affido a Dio che mi dice guarda che io esisto e io ti ho creato. Cosa fai? Non ci credi? Allora sei un brutto stronzo perché non credi a chi ti ha creato. Dio ci rimane male e tu hai l'istinto di colpa per aver fatto incazzare Dio perché non avresti dovuto farlo perché Dio ti ha creato. E allora da quel punto di vista te non devi fare niente. Esiste la formula di Einstein, E uguale a mc al quadrato, dove solo l'energia è positiva, non esiste l'energia negativa. Che fai? Non credi ad Einstein, ha preso il premio Nobel su alcune cose, quindi se ne intende. Non puoi scrivere un lavoro scientifico dove si dice che l'energia negativa invece esiste. E Einstein non la prende in considerazione perché ha detto, siccome non so che cos'è, non la uso. Allora la scienza in quel contesto diventa una fede e la scienza e la religione si ricorda che nascono da un unico ceppo storico che era la magia. Il mago era colui che era il religioso di turno e che parlava con le forze della natura e però faceva anche gli esperimenti in laboratorio. L'alchimista. L'alchimista di turno sostanzialmente. La fede non ha ragione di esistere. Galileo, da questo punto di vista, gli manca qualcosa. Galileo dice, accorgersi che esiste un fenomeno fisico, guardarlo bene per vedere come funziona, riprodurlo in laboratorio e scrivere una legge che, matematica, che descrive il fenomeno. In quel contesto Galileo ti dice che il fenomeno deve essere ripetibile, se no non è un fenomeno esistente. Allora l'universo non esiste perché l'universo non è un fenomeno ripetibile, è nato una volta sola e finisce in un solo boom. In quel contesto si capisce come la scienza non può interessarsi dell'universo perché l'universo esce dai canoni della filosofia scientifica di Galileo. No, non può essere così. Quindi vuol dire che il metodo galileiano è un metodo con delle grandi limitazioni. Qual è la limitazione del metodo galileiano? Ma ora oggi lo possiamo dire. Lo possiamo dire perché abbiamo studiato gli alieni e abbiamo capito che per studiare gli alieni ci voleva non solo la scienza, ma l'interpretazione dei dati. E l'interpretazione, in questo contesto, viene fatta dal lobo destro del cervello, che capisce che ci sono delle cose e cerca di mettere insieme il puzzle. Quindi, qualsiasi tipo di problematica deve essere analizzato con la scienza, benissimo. Analizziamo il 2 più 2 che faccia 4, benissimo. Ma soprattutto, a un certo punto, ci dobbiamo chiedere anche perché. Perché 2 più 2 fa 4? Cioè andiamo oltre la formula, ma cerchiamo il significato della formula. Il significato della formula della gravità ci apparirà così non coerente con la consapevolezza che oggi abbiamo della gravità. Una volta Newton diceva, beh, esiste una cosa che si chiama gravità, non so che cos'è, è una forza. Arriva Einstein e dice, ma la formula di Newton è giusta, però le forze non esistono e quindi la gravità è una cosa che è legata alla piegatura dello spazio-tempo. Passa qualche anno, la NASA ti dice che lo spazio-tempo non ha nessuna intenzione di piegarsi e quindi siamo di nuovo nel casino perché non sappiamo che cos'è la gravità. Arriva un altro signore che si chiama Verlinde e dice, la forza di gravità è una forza entropica, quindi coscienziale. La gravità dipende dalla coscienza. Pensate, siamo arrivati a questo punto e andremo sempre avanti. La forza di gravità, espressa da Newton, la formuletta è sempre la stessa, ma la consapevolezza di che cosa vuol dire quella formula è cambiata e la consapevolezza in questo contesto ci viene data dal lobo destro che ha fatto tutto il lavoro di capire sempre di più con approssimazioni successive che cos'era la gravità. La formula era stata chiarita subito. È così. Questa è la formula della gravità. Il lobo sinistro ha fatto il lavoro e il lavoro che ha fatto ai tempi di Newton è lo stesso lavoro che ha fatto Verlinde. Non è cambiato niente. Quello che è aumentata è la consapevolezza della parte destra del cervello, dell'intuire attraverso la conoscenza. Il chiodo nel muro ritorno, direi. Sì. Già, è come fare una fotografia ma poi aver bisogno di un processo di elaborazione dell'informazione per poter interpretare quella fotografia. Un upgrade, esattamente così. Lei dice questo sulla fede, però c'è un aspetto dove pone una importanza fondamentale sulla fede quando ad esempio dice tu chiedilo la tua coscienza. Quindi in quel momento invita le persone fondamentalmente ad avere fede cieca e totale nei confronti di loro stessi. No, la fede cieca e totale in questo contesto è solo nei confronti di noi stessi, perché noi siamo la coscienza. Quindi quello che accade è che quando noi abbiamo recuperato il valore della coscienza, cosa che può succedere solo quando il percorso di acquisizione di consapevolezza è terminato, cioè la parte destra del cervello e la parte sinistra si sono riunificati in una coscienza unitaria, il maschile e il femminile sono tornati a essere uno, sostanzialmente succede dentro di noi una cosa strana. Te esattamente credi che la voce che hai dentro di te sia assolutamente la tua voce. Una cosa che non succede quando questa tipologia di lavoro non è stata fatta. Nell'istante in cui tu hai acquisito consapevolezza di te, sai riconoscere la tua voce come un atto di volontà tuo e non di qualcun altro che viene da fuori e che cerca di turlupinarti. L'addotto ha dentro di sé una vocina che gli dice cosa deve fare e cosa non deve fare. E l'addotto crede proprio perché non ha consapevolezza di sé che quella vocina sia la voce dell'angelo che lo protegge, la voce di quel qualcosa che in qualche modo lo aiuterà a vivere e non si rende conto che questa vocina è solo la vocina di un alieno che noi chiamiamo Lux e che gli antichi chiamavano Lucifero, portatore di luce, che lo vuole turlupinare. Nell'istante in cui l'addotto acquisisce consapevolezza di sé e sta per cacciare l'alieno usurpatore del suo corpo sa riconoscere la sua vera voce, la voce della sua coscienza, dalla vocina stridula che appare a questo punto stridula di quell'essere che ti ha utilizzato come se fosse un parassita. In quel contesto si può comprendere la differenza tra le due voci solo perché ne hai acquisito consapevolezza. C'è un film che si chiama Revolver, non so se l'ha visto. No. È così tanto tempo che senti quella voce nella tua testa che ti sei convinto di essere quella voce. Tutto quello che sta dicendo viene ripreso e riportato anche nella maggior parte delle tradizioni iniziatiche e gnostiche fondamentalmente. Quindi da che parte stanno queste cose qua? Certo. Perché lei da una parte fa un collegamento con la massoneria e tra massoneria e queste entità. Dall'altra però all'interno di queste scuole gnostiche direi ma piuttosto filosofie iniziatiche c'era già un po' tutto direi. Assolutamente c'è sempre stato un po' tutto dentro ognuno di noi perché noi pur essendo inconsapevoli siamo sempre i creatori dell'universo e quindi in fondo a noi c'è quel barlume di coscienza che ci dice che noi siamo i creatori dell'universo. Solo che non avendo gli strumenti per poterlo capire sovente questi barlumi di consapevolezza vengono male interpretati dal soggetto che cerca di razionalizzarli. Questo accade assolutamente in tutti questi che sono i processi di razionalizzazione. Se io ho studiato la quantistica posso fare un processo di razionalizzazione dicendo, comprendendo che lo spazio e il tempo non esistono in un universo non locale. Se io non ho studiato quantistica, il fatto che l'universo sia non locale, cioè che non esista lo spazio e che non esista il tempo, viene in qualche modo interpretato da un punto di vista puramente religiosistico. In che senso religiosistico? Religiosistico nel senso che viene presa come informazione di fede, come dogma. È presa come informazione di fede e di dogma che è scritta nel mito, ma il mito non è in grado di essere interpretato perché non abbiamo i prerequisiti per interpretarlo. E in questo lavoro di interpretazione senza prerequisiti si prendono lucciole per lanterne. Questo è un po' il lavoro che fa la New Age quando sì, più o meno quello che dice potrebbe tornare, ma alla fine c'è sempre qualche cosa che si distanzia molto dalla realtà. La New Age dice che bisogna risalire all'uno. No, non bisogna risalire all'uno perché se no l'entropia tornerebbe indietro. Bisogna sempre andare avanti e quindi è solo nel processo di discesa che c'è la separazione nei diversi livelli di coscienza fino al nostro livello, dove c'è la separazione totale tra il maschile per esempio e il femminile. Perché noi dobbiamo vivere questa esperienza per capire che cosa vuol dire separazione. In questo contesto lo scienziato che non ha la capacità di comprendere l'universo sarà lì di fronte a una formula che gli dirà che 2 più 2 fa 4. Parlami di universo e alieni così che io possa capire. L'intervista inedita al professor Corrado Malanga nel nuovo libro di Eugenio Miccoli. Accedi a 78 minuti di conversazione registrati dal vivo e con definizione 4K. Troverai anche le più importanti tra le interviste e i contributi del professor Corrado Malanga. Un totale di oltre 20 ore di contenuti raccolti in un unico volume. Dati, ricerche, scoperte ed il racconto di anni di esperienze nello studio degli UFO e degli alieni, della coscienza e dell'uomo, tra storia e matematica, attraverso la fisica, la chimica, la filosofia e la religione. Torna a ricordare che sei il creatore dell'universo. Per vedere l'intervista integrale, clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video.